Ben ritrovati con l'informazione, una nuova settimana ci attende, le notizie ovviamente aprono subito con la bella iniziativa che c'è stata a Vò durante questo weekend. Era partita infatti da sabato alle ore 16 da Codogno la staffetta podistica Codogno-Vò, organizzata dal gruppo podistico casalese di Casasserugo in collaborazione con la FIASP di Padova e si è conclusa ieri mattina verso mezzogiorno coinvolti al passaggio degli atleti, oltre a una quarantina anche le città di Cremona, Mantua, Lignago, Montagnana e infine Merlara si sono susseguiti in una corsa che ha avuto l'intento di lanciare un messaggio di unione, coraggio e voglia di rialzarsi pur consapevoli che non è tutto passato ed è necessario mantenere le precauzioni necessarie. La tappa a Merlara soprattutto per ricordare tutti gli anziani deceduti. All'arrivo avò la presenza anche del paziente numero uno, Mattia Maestri, e la coordinatrice di chirurgia dell'ospedale di Codogno, Ada De Maggio. Vediamo. È bellissimo, come ho detto già ieri, l'iniziativa è stata straordinaria, mi sono chiesto di partecipare, l'ho fatto, ho fatto le ultime due frazioni e sono contentissimo. Sto molto meglio e lo testimonia il fatto che sono qui a correre e va bene così. Ma i ricordi purtroppo non ne ho, nel senso che come ho già detto sono andato in ospedale per febbre alte, una lieve polmonite e poi è successo tutto quello che sapete. Io sto cercando di tornare alla vita di sempre, non è ancora, penso, come vedete tutti, la vita di sempre, però penso che ci stiamo avvicinando pian pianino. Un'altra giornata di festa, ma un'altra giornata nella speranza e tutto vada bene. È un messaggio chiaro e forte, è arrivato oggi, uniti si vince, ma bisogna essere anche molto attenti a mantenere quelle che sono le regole di distanziamento sociale perché il nemico è sempre inaguato. Fa ancora paura e direi che in questo momento in cui vediamo che in altre nazioni c'è stata una recrudescenza, questo deve far pensare che la guerra non è ancora finita. Tornando a parlare di coronavirus, vediamo oggi la crescita dei casi di positività al coronavirus in regione che nelle ultime 24 ore ha registrato 183 contagi in più, ma nessun decesso. Il dato delle vittime fortunatamente è fermo a 2176, lo afferma il bollettino della regione di oggi. I soggetti attualmente positivi sono 3.621 più 131, quelli in isolamento domiciliare 8.611 con un decremento di 340 unità. Cresce leggermente il numero dei ricoverati all'ospedale più 9 e anche dei pazienti in terapia intensiva più 1. Le autorità sanitarie hanno disposto la quarantena per 175 migranti, ospiti della ex caserma Zanusso di Oderzo, in provincia di Treviso, molti dei quali avevano rifiutato di sottoporsi ai tamponi dopo l'accertamento nei giorni scorsi di 5 casi positivi al virus Covid-19. Lo precisa l'Uds2 che si era attivata per l'esecuzione dei test nella struttura. Ma molti migranti hanno rifiutato di eseguire il tampone per altri impegnati in attività lavorative sul territorio. Non è stato possibile stabilire l'eventuale positività. Così per motivi di salute pubblica è stata disposta la quarantena per tutti gli attuali 175 ospiti della struttura. Dei 5 migranti positivi, uno è ricoverato ora all'ospedale di comunità di Vittorio Veneto, gli altri 4, asitomatici, sono in isolamento all'interno della ex Zanusso. Ubaldo Lonardi torna all'attacco dell'amministrazione comunale di Padova. Irresponsabile e sempre più inadeguata, dice la reazione del sindaco Giordani e dell'assessore Nalin che banalizzano e sottovalutano quanto accaduto all'asilo notturno del Torresino quando si parla appunto di polemiche. Non siamo davanti alla segnalazione di un singolo caso di positività ma del 50% degli ospiti di una struttura molto delicata dove le condizioni particolari delle persone dovrebbero imporre controlli quotidiani e non soltanto la misurazione della temperatura. Non si rendono conto, continua Ubaldo, che trovare contemporaneamente 40 persone positivi al virus significa che la situazione perdurava da settimane e ha avuto tutto il tempo per diffondersi non soltanto durante l'orario notturno ma anche durante quello diurno. Chiedo, continua Lonardi, almeno che il comune di Padova promuovano indagini interne da rendere notte al Consiglio Comunale per comprendere quello che è successo ed evitare che riaccada. Padova il 9 settembre scorso si è candidata all'Axel City World 2020-2021 un premio europeo giunto alla sua undicesima edizione indicato per le città che hanno saputo adottare una migliore accessibilità urbana. L'anno scorso ben 47 sono state le città europee partecipanti, vinto tra tutte da Varsavia. Esempi virtuosi che per Padova sono stati indicati nei lavori realizzati per superare in tutta la città le barriere architettoniche. Vediamo. Assolutamente, Padova si è candidata il 9 settembre all'Axel City World 2021 che è un premio che la comunità europea attribuisce alle città che hanno intrapreso delle azioni verso una migliore accessibilità urbana. È l'undicesimo anno che questo premio viene stabilito dall'Unione Europea. Dall'anno scorso hanno cominciato ad attribuire anche premi in denaro mentre prima erano solo menzioni di merito. Il primo classificato riceve 150.000 euro e poi a scalare 120.000 e 80.000 euro il secondo e il terzo. Oltre a questi ci sono anche delle menzioni speciali per azioni specifiche che vengono intraprese. Quest'anno in particolare c'è una menzione speciale per le azioni a supporto delle persone con disabilità all'interno della pandemia che abbiamo e stiamo ancora affrontando. È un premio molto importante sia perché riconosce alle città che partecipano e che lo vincono il merito di aver agito in modo forte su questo tema sia perché consente di mettere in rete le città che si occupano di questi temi all'interno dell'Unione Europea e quindi di poter prendere spunto per chi è un po' più indietro e mostrare quello che è stato fatto alle città che invece vengono premiate da questo riconoscimento. Veniamo alla cronaca. Le 20 di ieri sera i Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo la strada tra Vellai e Villa Bruna in via Boschi a Feltre per un'autovettura finita fuori strada contro un albero ferita. La conducente e i pompieri accorsi dal locale di staccamento hanno messo in sicurezza l'automobile mentre la conducente era presa in cura dal personale del suo M118 per essere poi trasferita all'ospedale. E sempre ieri sera alle 21.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Roma questa volta nel comune Due Carrare in provincia di Padova per un'auto finita in una canaletta piena d'acqua dopo la perdita di controllo del conducente è riuscito fortunatamente ad uscire il leso. I pompieri arrivati da Abano e da Padova con l'autogru hanno arraganciato e issato l'auto in gran parte in abissata liberando così il corso d'acqua sul posto i militari della locale stazione dei carabinieri per i rilievi dell'incidente. Questa mattina invece verso le 11 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in località Colsumano nel comune di Santa Giustina in provincia di Belluno per la fuoriuscita di un'auto finita rovesciata fuori in un campo di mais a bordo strada ferita la conducente i pompieri accorsi da Belluno hanno estratto la donna rimasta bloccata all'interno della vettura la quale poi è stata presa in cura dal personale sanitario del suo M e quindi trasferita all'ospedale. E invece sempre intorno alle 11 di questa mattina i Vigili del Fuoco sono stati impegnati per la ricerca di un giovane caduto nel fiume Sile nei pressi di via Silvio Pellico proprio in quel di Treviso città. Il primo tentativo di soccorso è stato dato dal padre che si è tuffato ma non è riuscito a raggiungere il giovane. I Vigili del Fuoco intervenuti con più squadre stanno eseguendo delle ricerche lungo le sponde del fiume mentre si è alzato in volo anche l'elicottero Drago 71 del reparto Volo di Venezia. I sommostratori dei Vigili del Fuoco arrivati da Vicenza stanno eseguendo ancora delle immersioni di ricerca dal molo dei canottieri. Parliamo ancora di Via Anelli a Padova. Ebbene è stato aggiudicato il cantiere per completare l'opera di demolizione di Via Anelli quello che è l'ultimo baluardo è simbolo del degrado che per anni è rimasto a memoria di una inerzia politica in città tale da azzerare ogni iniziativa legale. Il tristemente famoso muro di Via Anelli verrà quindi abbattuto dalla società Brenta che si è occupata anche dell'abbattimento delle sei palazzine dell'ex complesso Serenissima. La caduta del muro sottolinea in modo plastico come la cancellazione di uno scempio urbanistico abbia creato così no enormi problemi di convivenza sociale. Sulle macerie di Via Anelli lo ricordiamo nascerà a Padova la questura di Padova e quindi una Padova migliore che porterà in città investimenti e soprattutto funzioni capaci di attivare quella nuova economia e quella nuova socialità di cui appunto la città ha bisogno. Le operazioni inizieranno a metà ottobre. Vediamo. Per chiudere l'ultimo capitolo della vicenda Vianelli della vicenda del complesso Serenissima il muro che è stato eretto nel 2006 mi ricordo all'epoca ero presidente del quartiere ed era nata da una discussione in strada proprio in via De Besi con i residenti che abitano sul retro del complesso Serenissima. Allora si voleva realizzare una recinzione più fortificata e più robusta per evitare sia lo scavalco della recinzione che c'era prima ma anche il passaggio della droga perché era diventato un fronte di spaccio. Poi divenne muro e divenne il simbolo di quello che fu una separazione in città un luogo dove la criminalità agiva in modo franco ma un luogo anche dove come dire di convivenza non compiuta soprattutto col territorio circostante. Quindi la demolizione di quel muro anche se dal punto di vista operativo è cosa molto semplice dal punto di vista simbolico assuma un valore molto forte. Il pensiero positivo è questo che dalle macerie di quello che fu il simbolo di separazione un simbolo di criminalità di quello che fu uno scempio urbanistico che poi ha portato a tutto questo e da quelle macerie nasce oggi un quartiere nuovo e quindi la collocazione della nuova questura darà l'opportunità a quel quartiere di ricostruirsi intorno a questa funzione. Oggi sono ripartite le elezioni di presenza nell'Ateneo di Padova eppure in alcuni dipartimenti ci sono stati degli imprevisti che hanno impedito il ritorno in aula degli studenti. A muovere queste critiche il sindacato studentesco Udu Padova nei giorni precedenti dice la nota alla riapertura c'è stata un po' di confusione nelle varie sedi dell'Ateneo lo dice anche Agnese Maiocchi rappresentante del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo in alcuni dipartimenti le elezioni hanno subito bruschi cambi di orario con un tempo di preavviso minimo in altri alcuni insegnamenti sono stati addirittura slittati di una settimana a causa dei problemi tecnici avuti nelle aule. Nasce la prima academy per calzolai in Veneto e in Italia grazie all'intesa avuta tra Politecnico Calzaturiero della Liviera del Brenta Confartigianato Imprese Veneto Calzolai 2.0 e l'Istituto Veneto per il lavoro il progetto parte con un catalogo di corsi di aggiornamento per la formazione continua con l'obiettivo di arrivare alla prima scuola italiana per questa professione. Al Museo Botacin presso Palazzo Zuckerman a Padova iniziano gli interventi di aggiornamento degli impianti e per consentire lo svolgimento dei lavori il museo sarà chiuso dal 29 di settembre fino a fine ottobre 2020. La biblioteca del Museo Botacin rimarrà invece aperta al pubblico con l'ingresso su prenotazione nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì. Per informazioni potete chiedere al numero 049-820-5675. Parliamo del Basso Isonzo, la salvaguardia di un'area verde pubblica come quella del Basso Isonzo a Padova è stata portata a conoscenza della cittadinanza da un comitato di cittadini nato spontaneamente promotore anche per pensare l'uso diverso di questa area cercando l'adesione ad un manifesto con l'istituzione agricola del Parco Isonzo. Vediamo. Bisogna attendere. Ne abbiamo visto durante il periodo del Covid quanto in quei terreni la gente venisse a camminare in cerca di un po' d'aria e un po' di sollievo dalla quarantena che c'è stata dal lockdown che c'è stato imposto. Invitiamo il sindaco e l'amministrazione comunale a farsi carico di questa che ormai è diventata una priorità e un'emergenza per il territorio di Padova. Parliamo ancora di lavoro una opportunità occupazionale per quelli che sono definiti gli over 50 già collaudata anche l'anno scorso proprio dall'amministrazione comunale di Padova. Sei fortunati lavoratori over 50 potranno essere impiegati con un contratto a tempo determinato per 12 mesi presso Bus Italia per questo progetto di inserimento lavorativo sono stati stanziati 80 mila euro. Vediamo. Si è confermato per il secondo anno un'idea che abbiamo sviluppato nel 2019 ovvero una possibilità occupazionale per gli over 50 mettendo assieme esigenze del territorio e esigenze delle persone lavorando con Bus Italia la fondazione Cariparo che ha aiutato nel finanziamento del progetto si chiama portierato over 50 sei persone potranno essere occupate con un contratto a tempo determinato per 12 mesi per occuparsi delle rimesse dei depositi di Bus Italia e quindi trovare uno sbocco lavorativo per gli over 50 secondo anno perché il primo anno è ne ha fatti erato molto bene. E parliamo della prova del concorso per la scuola il 22 di ottobre la data scelta dal Ministero dell'Istruzione per iniziare la prova del concorso straordinario per la scuola è quanto emerso al termine dell'incontro tra i sindacati e il Ministero le prove si terranno fino a 9 novembre il concorso straordinario mette in palio 32 mila posti per i precari che hanno svolto almeno tre anni di servizio e ha visto la presentazione di ben 64 mila domande la partenza del concorso è prevista per il 22 ottobre la prova del concorso sarà composta da 5 quesiti a risposta aperta e da un quesito in lingua inglese la prova avrà durata di 150 minuti torniamo alla cronaca da officina a discarica abusiva il passo è stato breve ma la cosa non è sfuggita alla polizia locale che ha avviato appunto le indagini l'ultima settimana di settembre la polizia locale ha scoperto che a Curtarolo in provincia di Padova c'era una volta un'officina e adesso invece sorge una discarica con rifiuti speciali e potenzialmente pericolosi durante un pattugnamento gli agenti hanno notato l'abbandono di diversi veicoli ormai inutilizzabili oltre a pneumatici rottami ferrosi parti di motori e pezzi di carrozzeria perfetta quindi la strada per non arrivare e non farsi vedere infatti passava inosservata sul posto è andato in prima persona anche il commissario Colombara che ha coordinato il nucleo specializzato di sicurezza urbana della polizia locale della federazione dei comuni del campo san pierese il proprietario del terreno è un carrozziere in pensione da qualche anno e ha riferito agli agenti di aver accumulato quei rifiuti negli anni mai però smaltiti ora rischia una sanzione che può andare dai 300 ai 3000 euro se i rifiuti invece risulteranno pericolosi la multa sarà raddoppiata parliamo di arte per l'artista padovano Toni Gallo missione compiuta grazie ancora una volta al supporto degli abitanti del suo quartiere Larcella ha potuto ultimare infatti l'opera realizzata su una facciata dell'autosilos di via Anibale da Bassano che ha cambiato l'entrata di uno degli accessi principali dell'Arcella per chiudere saranno chiuse temporaneamente al traffico veicolare via Giuseppe Cesare Abba da domani alle 8.30 fino alle ore 18 per delle lavorazioni sulle grondaie di un edificio chiusa anche via Giovambattista Vico tratto prospicente numero civico 12 da domani alle ore 8.30 fino alle 13 per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di lavori per il getto di una platea di Cacestruzzo per un cantiere anche via Bengasi tratto prospicente il civico 19 da oggi fino a mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 per la realizzazione di una nuova presa del gas e ancora via Nicolotto Maseo tratto compreso tra via Valeri e via Gozzi proroga fino al 10 di ottobre per lo spostamento di alcuni sottoservizi che riguardano la futura realizzazione della linea tramviaria SIR 3 bene è tutto per questa nostra edizione del giornale prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21.05 con Caffè Sport che ritorna come sempre condotto in studio dal collega Francesco anzi Simone Francescon bene è tutto grazie per averci seguito una buona visione dei nostri programmi grazie per averci seguito